Fanciulli bentrovati, come state? Allora, video naturalmente per commento post Cremonese Toro Naturalmente perdonate le condizioni precarie, però oggi giornata piena, sono venuti a trovarmi i miei amici di Roma e di una mia amica di Napoli per il big match di questa giornata E quindi purtroppo non sono neanche potuta andare a Cremona, se no vi avrei portato in trasferta come sempre, però le prossime, insomma, se tutto va bene, ci sono Niente, che dirvi, partita ostica, Iuri ce l'aveva detto, quindi i tre punti valgono veramente tantissimo E permettetemi questa battuta, insomma, che lascia praticamente il tempo che trova, salutatela capolista Ebbene sì, chi l'avrebbe mai detto? Battute a parte, naturalmente ci sto giocando un po' su perché comunque sono felice, è una vittoria importantissima La Cremonese non ci ha reso la vita facile e io devo dire che se ogni partita dovessi vivere gli ultimi 15 minuti Come ho vissuto quelli contro la Cremonese, io credo che uno ai 30 anni non ci arrivo, due ma neanche alla fine del campionato Neanche probabilmente con un defibrillatore vicino E la Cremonese ci ha provato, ha provato a portarla a casa e gli fa onore Faccio i complimenti assolutamente alla Cremonese che è una bella squadra e anche ai tifosi che effettivamente l'hanno sostenuta sempre Le auguro di salvarsi perché credo che ad oggi sia tra le neopromosse che se lo merita di più Detto ciò, venendo al Toro, sono veramente orgogliosa di questi ragazzi della mia squadra Hanno affrontato e preparato la partita nella miglior maniera possibile Ma io direi tutti sugli scudi ragazzi, insomma c'è poco da dire, oggi forse sono più breve del solito Io credo che Radonich se in forma non si monta la testa e c'è di testa, è veramente tanta roba A me piace, io sono sul suo carro dal momento zero, un investimento bassissimo che però ci sta rendendo tanto Schurz che si ha fatto il suo debutto, promosso a pienissimi voti, cioè un 7 nessuno glielo toglie Partita di carattere e questa è solo la prima settimana di lavoro che fa con Nuric Quindi veramente spero che vada sempre migliorando, insomma le premesse affinché questo avvenga ci sono E quindi difesa promossa tutta in realtà Aina oggi mi sento di dargli un 6, non perdonatemi, singo perché ha fatto delle belle cose nel primo tempo Poi come sempre secondo è un po' sparito Spero si ritrovi questo ragazzo perché quest'anno ci si aspetta il salto di qualità da lui Vediamo ecco che cosa farà Sono contenta ragazzi, ho veramente poco da dire analizzando poi i singoli Non c'è nessuno insufficiente, senza ombra di dubbio Vlasic, parliamo di Vlasic, giocatore di un'altra qualità Cioè palese, a me ha colpito dal primo momento che l'ho visto giocare a Monza dal vivo La settimana scorsa contro Lazio ha fatto praticamente un 60 minuti d'ombra Però ci può stare oggi assolutamente bene Sono contenta Io credo che al Toro manchi effettivamente un bomber da 20 gol per poter eventualmente divertirsi Sanabria fa tanto lavoro sporco, gli vanno assolutamente i dati meriti Però dobbiamo anche finalizzare molto di più Perché alla fine vinci se fai gol, non sicuramente sempre con le prestazioni Nonostante le belle prestazioni facciano piacere e vadano assolutamente menzionate Prossima Bergamo Tosta perché è una trasferta tosta Chi c'è a Bergamo mi scriva perché ci vediamo E niente, ripeto, sono veramente contenta Speriamo di continuare così Non mi monto la testa Anche perché ogni volta che lo faccio poi col Toro Becco un palo grosso così in faccia Pensiamo partita per partita Però effettivamente la mano di Juric si vede Io continuerò a ripeterlo che lui è il nostro uomo in più Bene, ottimo così Andiamo avanti così Contentissima Tre punti d'oro Tre punti veramente d'oro E... Dai Sempre forza d'oro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti